Mister, il 2023 si apre con tre punti di fondamentale importanza per la scalata alla classifica, siete a meno due fuori dalla zona play-out, momento d'oro, striscia positiva che continua. Sì, ci tenevamo molto ad iniziare il nuovo anno con una vittoria, questa vittoria è arrivata, devo dire che non sono soddisfatto appieno della prestazione perché sapevo che le partite più pericolose sono queste, l'ultima prima delle vacanze è la prima quando si rientra, anche con un pizzico di fortuna, con qualche episodio a nostro favore siamo riusciti comunque ad ottenere questa vittoria.